Naturalmente io ho cercato di spiegare ai miei colleghi che i risultati in effetti straordinari che abbiamo raggiunto in termini di riduzione del numero degli arrivi, che come sapete bene ha la premessa per rendere i flussi di migrazioni da irregolari a gestibili, meno pericolosi per i migranti, meno pericolosi dal punto di vista dell'impatto sociale sul Paese, oltre a questo i risultati significano anche le attività che in modo graduale si sviluppano sempre di più e che tendono a rafforzare la capacità dalla Libia di organizzare i rimpatri volontari i numeri dell'OIM. Mi auguro presto la capacità di UNHCR di aprire un proprio campo in Libia.